Qual è il programma della 32esima edizione dei concerti d'organo? Quest'anno i concerti d'organo prevedono, il festival prevede quattro concerti, quattro appuntamenti tutti nella nostra cattedrale a Teramo alle ore 21. Sarà il maestro Meyer il 20 settembre che inizierà, aprirà questo festival, poi il 22 ci sarà il maestro Zareschi dalla Russia, dalla filarmonica di Leningrado, in questo caso San Pietroburgo e il 27 il maestro Eugenio Maria Faggiani italiano, organista titolare del festival e dell'organo anche del Santuario della Verna e poi chiuderà il festival il maestro Johansen anche lui dalla Germania che è titolare, organista titolare della chiesa madre della città di Stoccarda in Germania. Sono quattro organisti di livello internazionale molto importanti e sono molto contento di averli qui quest'anno in questa 32esima edizione che non si svolgerà appunto come negli altri anni passate le edizioni al mese di giugno e al mese di settembre. Quest'anno devo dire sono molto contento perché il festival sembrava che per mancanza di fondi purtroppo non si potesse più fare dopo tantissime edizioni. E invece poi il festival si è potuto fare quest'anno nel mese di settembre grazie al contributo della Team. Io volevo quindi ringraziare la Team come azienda appunto per aver voluto sostenere questo progetto culturale molto importante per la città di Teramo che era veramente un peccato se quest'anno non si poteva quindi realizzare. e volevo quindi ringraziare e augurandomi anche che questo possa essere uno sprone per il futuro anche per altre aziende e enti pirati che vogliano investire nella cultura nella nostra città.